Buonasera, benvenuti ad una nuova edizione di Spazio Professioni. Vediamo insieme le notizie di questa settimana. Iniziamo dalla politica. Terremoto in Francia e nel Regno Unito, dove i governi sono stati pesantemente battuti dal front nazional di Marine Le Pen e dall'EUKIP di Nigel Farage. Ma l'Unione Europea non crolla. Lo tsunami euroscettico è meno violento del previsto. Non solo per il risultato italiano, che sembra premiare il PD molto al di là delle previsioni. Persino l'affluenza inverte la tendenza. Per la prima volta dal 1979. Era sempre calata. Stavolta si attesta al 43,1% su base europea. Appena allo 0,1% in più rispetto al 2009. Ma è considerato un segnale positivo. Si tirano le somme dopo i risultati delle elezioni europee, che segnano un'avanzata degli euroscettici, anche se tengono gli europeisti. La maggioranza dell'Europarlamento va al PPE. Ed è già battaglia per la successione di Manuel Barroso alla presidenza della Commissione. Per l'esponente dei popolari europei, Juncker, il PPE ha vinto e chiede di essere presidente della Commissione UE. A Juncker, il leader dei socialisti europei, Schulz, dice «Se vuole parlare con noi è benvenuto. Attendo che prenda l'iniziativa», aggiunge. «Anch'io prenderò l'iniziativa per formare una maggioranza». Angela Merkel si è detta felice per il risultato raggiunto dal PPE, ma ha deplorato l'avanzata degli euroscettici. In Gran Bretagna Farage, leader degli euroscettici, festeggia il divorzio dalla UE e dice di voler conoscere Grillo. Il Front National di Marine Pen è il primo partito in Francia e fa segnare una storica sconfitta al partito socialista di Hollande. Debacle dei popolari in Spagna. In Grecia è in testa a Siriza di Alexis Tsipras. Risultato storico all'europea per il Partito Democratico, che conquista due milioni e mezzo di voti. Il premier Matteo Renzi, commosso e soddisfatto, si dice pronto ad accelerare con le riforme. Sentiamo i dettagli nel servizio dell'Ansa. Con il vento in poppa di una vittoria schiacciante, Matteo Renzi non vuole perdere un minuto sulle riforme. Il timing prevede l'ok di Palazzo Madama, giugno, sulla riforma del Senato e un'accelerazione sulla legge elettorale, da portare a casa magari già a luglio. E per chi proverà a frenare il premier, era sul tavolo la minaccia del voto anticipato. L'imperativo è fare presto e la consultazione sulla riforma della pubblica amministrazione finisce a fine mese. E dentro la maggioranza si ragiona, se non sia il caso, di approvare un decreto legge per creare una corsia preferenziale in Parlamento. Sulla legge elettorale, la linea ufficiale resta la stessa. Avanti con l'Italicum, consapevole che alla luce del 40% del PD ci sia il rischio che sia Forza Italia, sia Nuova Centrodestra, possono mettersi di traverso. E se il patto dovesse saltare, Renzi è determinato ad andare avanti comunque con nuovi alleati e magari con un modello elettorale maggioritario. In più c'è l'ipotesi di un allargamento dei numeri della maggioranza, con pezzi di ex del Movimento 5 Stelle. In 12 ex la prossima settimana creeranno infatti il gruppo Democrazia Attiva e ad esponenti di SEL in sofferenza verso l'opposizione di Michi Vendola. Cambiamo argomento. Ad aprile le retribuzioni contrattuali orarie sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a marzo, ma aumentano dell'1,2% su base annua. Lo rileva l'Istat specificando che nei primi quattro mesi del 2014 la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1,4% rispetto al corrispondente periodo del 2013. Con riferimento ai principali macrosettori, spiega una nota diffusa dall'Istat il 23 maggio, ad aprile le retribuzioni contrattuali orarie registrano un incremento tendenziale dell'1,6% per i dipendenti del settore privato e una variazione nulla per quelli della pubblica amministrazione. La fiducia dei consumatori sale ancora, toccando a maggio il valore più alto da gennaio 2010 con l'indice a 106,3. Lo rileva l'Istat. A trainare il rialzo, il terzo consecutivo e la componente economica, giudizi e attese sulla situazione del paese ai massimi da marzo 2007. Nonostante i dati positivi che arrivano dall'Istat, la BCE rappresentata da Mario Draghi avverte che la spirale deflazionistica potrebbe spingere famiglie e imprese a posticipare la spesa. Sentiamo. C'è il rischio che le aspettative di disinflazione diventino radicate. È l'allarme lanciato dal presidente della BCE, Mario Draghi, che parlando al simposio delle banche centrali in Portogallo avverte il fenomeno potrebbe spingere famiglie e imprese a rinviare la spesa in un classico ciclo deflazionistico. La BCE spiega ancora deve essere molto accorta rispetto alla possibilità di una spirale negativa fra bassa inflazione e aspettative di inflazione a ribasso e credito, specie in paesi sotto stress. Il rialzo del tasso di cambio dell'euro sta contribuendo alla bassa inflazione, ha aggiunto, ma la BCE non è rassegnata a lasciare che rimanga troppo bassa, troppo a lungo. Nel caso di un calo troppo prolungato dell'inflazione sotto le aspettative dello scenario prospettato dalla BCE, aggiunge ancora Draghi, ad esempio nel caso di un'interazione fra tasso di cambio e aspettative di inflazione, sarebbe richiesto un intervento espansivo nel contesto di un ampio programma di acquisto titoli. L'8 maggio la direzione centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate in sede di risposta ad interpello ha dato la seguente interpretazione in merito alle STP. Quando i professionisti, associandosi tra loro ed eventualmente con soggetti non professionisti, scelgono la forma della società tra professionisti, vengono inevitabilmente attratti nel regime del reddito d'impresa. Anche per le società tra professionisti, infatti, opera a tutto tondo il principio affermato dagli articoli 6, ultimo comma e 81 del Tuir, che attraggono nel reddito d'impresa i redditi prodotti dalle società di persone non semplici, dalle società di capitale e degli enti commerciali. Risulterebbe determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria, mentre non assumerebbe alcuna rilevanza all'esercizio dell'attività professionale. La denuncia arriva dagli ordini degli avvocati. I tribunali pronti ad affrontare il debutto del processo informatico sarebbero infatti pochi e sparsi a macchia di leopardo in tutta Italia. La mancanza di infrastrutture adeguate e di preparazione del personale di cancelleria e dei magistrati potrebbero infatti non garantire lo sviluppo pieno uniforme del nuovo strumento. È necessario inoltre, secondo gli avvocati, un adeguamento del codice di procedura civile al nuovo processo telematico, di modo che sia garantita efficacemente la riduzione dei tempi di giustizia. Siamo con l'avvocato Sandro Callegaris, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna. Presidente, il 30 giugno entrerà in vigore il processo civile telematico obbligatorio. Come si sta preparando il suo ordine? Il nostro ordine sicuramente dall'89 che si sta preparando a questo momento è stata una scommessa, direi a questo punto vinta. Il processo civile telematico era una cosa molto veneristica, nessuno ci credeva, richiedeva molti fondi, secondo me richiedeva solamente un po' di lungimiranza e soprattutto la passione per comprendere che i tempi cambiavano. Gli avvocati di Bologna sono già preparati, sono pronti, abbiamo lavorato molto, abbiamo anticipato anche delle obbligatorietà non previste dalla legge, giusto per fare in modo che nel momento come il 30 giugno dell'obbligatorietà tutti quanti gli avvocati potessero in maniera naturale continuare la loro attività professionale perché non è possibile che un'innovazione come questa sicuramente di pregio potesse andare a influire in maniera negativa sull'attività professionale e quindi anche sull'interesse dei clienti. Via Libera ha l'assegnazione di oltre 36 milioni per l'edilizia scolastica con lo strumento dei fondi immobiliari. Il ministro dell'istruzione, Stefania Giannini, ha infatti firmato il decreto che distribuisce la somma agli enti locali beneficiari. Grazie alle somme sbloccate si potranno rigenerare strutture obsolete o costruire nuovi edifici dotati degli standard di sicurezza più recenti e di nuovi modelli di spazi di apprendimento, sottolinea in una nota il ministro Giannini. Lo stanziamento si inserisce nell'ambito delle attività intraprese dal MIUR in materia di edilizia scolastica e si caratterizza per la promozione a titolo sperimentale dell'utilizzo da parte degli enti locali dello strumento del fondo immobiliare che grazie alla sinergia tra risorse pubbliche e private e alla valorizzazione degli immobili più vecchi consentirà di rinnovare il patrimonio immobiliare scolastico. Bene, con questa notizia ho concluso l'edizione di oggi. Spazio Professioni vi aspetta la prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.